Musica Qualcuno paghi per la morte di Mattia. Sono queste le parole della mamma del neonato deceduto lo scorso venerdì al Policlinico di Messina, 38 giorni dopo il parto. In poco più di un mese di vita il piccolo ha vissuto fra tre ospedali diversi a causa della mancanza di posti letto disponibili. Prima a Bronte, poi a Siracusa e infine a Messina dove è deceduto. I genitori adesso chiedono che venga fatta giustizia affermando che ha sbagliato o paghi. Intanto l'aspe di Siracusa ha aperto un'indagine interna per fare chiarezza su quanto è successo. Nel frattempo il ministro della salute Beatrice Lorenzin, intervenuta nel corso della trasmissione domenica live di Canale 5, è tornata a parlare dei recenti casi di mala sanità. In particolare della morte della piccola Nicolo e la neonata deceduta a Catania per mancanza di posti nelle strutture ospedaliere. A tal proposito il ministro ha affermato subito inviato una task force formata dai carabinieri dei Nasse e dai ispettori del ministero così da avere tutte le informazioni necessarie per poter intervenire. Stando al ministro della salute, i problemi che affliggono i vari pronto soccorso sono ad attribuire a tre cause. Il 118 non funzionerebbe senza una rete territoriale, diventando così un imbuto dove accorrono tutti i malati e creando lunghe file di attesa anche per coloro che non necessitano di un intervento d'emergenza. Inoltre si è privi di una rete informatizzata che indichi dove recarsi. Infine, l'ultima causa sta nel blocco del turnover da più di 10 anni in metà Italia. Spero che i concorsi si facciano in breve tempo. Inoltre in queste condizioni ho visto i medici lavorare in maniera eroica senza stare a guardare turni o ferie. Adesso il ministro Lorenzini si aspetta che le regioni applichino le leggi. La sanità, ribadito, non è ragioniera ma politica sanitaria. Da 10 anni la consideriamo solo un costo, ma non è vero che in Italia si spende troppo per la sanità pubblica. Spendiamo il 6,9% del PIL rispetto alla media del 9-10% degli altri paesi europei, senza considerare il 19% degli Stati Uniti. Malore in carcere per Veronica Panarello. La mamma del piccolo Loris Stival, detenuta nel penitenziario di Agrigento, è stata trasportata in ospedale dove i mendici hanno disposto il ricovero precauzionale. La donna è svenuta nella sua cella. A soccorrela sono stati gli agenti del penitenziario che, dopo averla condotta in infermeria, l'hanno trasferita in ospedale dove è stata sottoposta a TAC ed altri esami che non hanno rilevato patologie rilevanti. La notizia del malore è giunta alla procura di Ragusa e al legale di Veronica, Francesco Villardita, che dopo l'autorizzazione da parte della direzione del carcere, ha ottenuto un colloquio straordinario con la sua assistita proprio nella struttura ospedaliera. Veronica Panarello è detenuta nel carcere di Agrigento con l'accusa di aver ucciso a Santa Croce Camerina il 29 novembre 2014 il figlio Loris, di otto anni, strangolandolo con delle fascette di plastica. La donna in seguito avrebbe gettato il corpo del piccolo in un canalone nei pressi di contrada a Mulino Vecchio. Sull'omicidio sono ancora in corso le indagini condotte dalla Polizia di Stato, dalla squadra mobile e dai carabinieri di Ragusa. L'arresto è stato convalidato dal GIP di Ragusa e dal Tribunale di Riesame di Catania. Comunica. Vigilanza Fissa Punzonature Trasporto Valori Global Security International Consorziato Sicurgem Contattaci per la tua sicurezza. Nuovi tagli alla regione che annuncia la volontà di lasciare alcune delle sedi in affitto. Un'operazione prevista tra le norme della finanziaria per la quale sono già partiti i primi avvisi ai proprietari e con cui si andrebbe incontro a un risparmio di circa 3 milioni di euro. Un piano di riorganizzazione e di allineamento alle norme nazionali lo definisce l'assessore all'economia Alessandro Baccei, per il quale si sta lavorando ad alcuni interventi per ridurre i fitti passivi. La legge prevede infatti una serie di requisiti da rispettare, come ad esempio un numero massimo di metri quadrati. Stiamo rivedendo le occupazioni e razionalizzando gli spazi, ha detto Baccei. In questo modo si conterrà la spesa per arrivare a risparmiare circa 3 milioni di euro. Intanto quella che è appena iniziata sarebbe la settimana decisiva per la finanziaria. La legge infatti è a buon punto, assicurato dal palco della Leopolda siciliana, l'assessore romano che è stato difeso dal sottosegretario Davide Faraone. La classe dirigente del passato metteva in bilancio entrate finte per garantirsi le uscite, ha detto Faraone, spiegando che a causa di questo sistema la regione oggi deve fare i conti con un buco da 3 miliardi e mezzo di euro. Per questo Baccei, al lavoro per risanare la situazione, deve essere supportato, altrimenti c'è il rischio che rimanga isolato. D'altronde Baccei è proprio quel tecnico arrivato da Roma per mettere ordine nei conti e su quel buco l'assessore sta lavorando per trovare soluzioni. Ma non sarà macelleria sociale, non ci saranno tagli a sicura, ma solo interventi di allineamento alla normativa nazionale. Tra questi ci sono ad esempio gli interventi sui prepensionamenti e sulla riorganizzazione dei dipartimenti. Intendiamo liberare dove abbiamo degli esuberi, ha detto l'assessore, per cercare di compensare e riutilizzare le persone nell'ambito della regione. Leggero calo nella disoccupazione giovanile in Italia. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'Istat, il tasso tra i giovani tra i 15 e i 24 anni è sceso al 41,2% rispetto al 41,4% di dicembre 2014. Quello appena concluso però è stato l'anno che ha registrato il record di disoccupazione in Italia. Il 2014 si è chiuso infatti con un tasso di disoccupazione globale che è salito dal 12,1% del 2013 al 12,7%. Un dato annuale ritenuto il massimo mai registrato dal 1977 nel nostro paese. Dopo la crescita di dicembre, dunque a gennaio 2015, gli occupati sono 22.320.000, sostanzialmente invariati rispetto a dicembre, ma in aumento dello 0,6% su base annua. Il tasso di occupazione, pari al 55,8%, aumenta così di 0,3 punti rispetto ai 12 mesi precedenti. Il numero di disoccupati, pari a 3.221.000, diminuisce dello 0,6% rispetto al mese precedente, mentre aumento dello 0,2% su base annua. Dopo il calo di dicembre, a gennaio, il tasso di disoccupazione diminuisce ancora di 0,1 punti percentuali, tornando sullo stesso livello di 12 mesi prima. Quanto al tasso di inattività, il numero di individui tra i 15 e i 64 anni che non lavorano e non cercano un'occupazione, registra un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell'1,3% rispetto all'anno prima, mentre il tasso di disoccupazione dei 14-24 anni, cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi, è pari al 41,2%. Nella media del 2014, la disoccupazione continua quindi a crescere ed è un fenomeno che interessa tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra uomini e donne. L'incremento, secondo l'Istat, è dovuto in quasi 7 casi su 10 al numero di persone che ha la ricerca di prima occupazione. Il fiume Acragas in piena ha trasportato in mare di tutto e ora diverse tonnellate di legna, plastica, pneumatici e rifiuti vari hanno riempito la spiaggia di Maddalusa e della Babba Lucaria ad Agrigento. Chissà chi e chissà quando verranno ripulite, si chiede l'associazione Mare Amico Agrigento che ha realizzato a scopo di denuncia questo video in cui vengono mostrati i detriti che si sono accumulati nelle spiagge. Intanto, a causa di un altro fiume in piena, continuano le ricerche di Francesco Paolo Alaimo, l'allevatore di 72 anni, disperso da venerdì scorso nel Ganci, in provincia di Palermo. Si presume che l'uomo sia precipitato dal ponte mentre stava per attraversarlo e la furia della corrente lo abbia fatto cadere, trascinandolo a valle. Le ricerche continuano e vedono all'opera carabinieri, sommozzatori, unità cinofile dei vigili del fuoco, pattuglie del corpo forestale della regione siciliana equipaggiate con mezzi speciali polivalenti. Gli agenti del soccorso montano forestale e uomini del soccorso alpino perlustrano sentieri e torrenti, laghi artificiali e controllano burroni e dirupi. Intanto, le previsioni indicano che questa settimana sarà meteorologicamente divisa in due. All'inizio correnti occidentali porteranno molti passaggi nuvolosi e un clima mite, con picchi oltre 20 gradi in Sicilia. Da giovedì poi l'irruzione di aria molto fredda proveniente dalla zona fra l'Artico canadese e la Groenlandia porterà invece una fase più invernale, con temperature in calo anche di 10-12 gradi in poche ore. Kikkovo, un amore d'uovo. Sicuramente noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, abbiamo dato un'impronta alla gara forte, siamo andati a costruire diverse opportunità per far gol, molto con intensità, con qualità di gioco, andando sempre a essere pericolosi, alti. Quello che è stata la nostra caratteristica, sempre con imprevedibilità, portando più giocatori in aria persaria per cercare di far gol, purtroppo oggi ci è mancato quello, abbiamo colpito il dodicesimo palo della stagione e quindi questo la dice lunga su quello che noi vogliamo fare quando scendiamo in campo, però poi dopo andando avanti con la gara purtroppo hanno pesato due infortuni che ci sono capitati e nel calcio a volte succede e questo ha fatto sì che magari nello sviluppo della partita, poi nel secondo tempo non potessimo andare a fare totalmente quello che avevo in testa, ma faccio comunque i complimenti alla squadra perché nello stesso tempo ha tenuto gli equilibri, abbiamo variato anche il tema tattico un paio di volte, due o tre volte, però siamo riusciti sempre a mantenere equilibri giusti e anche una certa pericolosità, quindi pazienza. Ci è mancato il fatto di poter andare a segnare contro un Empoli che sappiamo che nelle ripartenze è molto veloce, rapido e pericoloso. Noi non possiamo chiedere a un ragazzo come Paolo tutte le volte che ha occasioni, noi creiamo occasioni, poi se nel calcio si sta di poter sbagliare qualche volta non è che possiamo pensare che tutte le volte di far gol. Adesso nelle ultime settimane se andiamo a vedere le occasioni che Paolo magari ha avuto, se penso a quella dell'Inter, quella della Lazio, quella di oggi, poteva avere già quattro gol in più almeno, però il calcio è fatto di queste situazioni qua, è importante che i ragazzi facciano la prestazione e arriviamo a concludere verso la porta avversaria con mentalità, con qualità di gioco, poi il calcio è fatto anche di episodi. Oggi sono stato anche costretto a togliere Rispoli nel secondo tempo perché era già monito, non volevo neanche rimettere la partita su binari ancora peggiori perché rimanendo in inferiorità numerica avremmo rischiato veramente di prestare troppo il fianco. Un punto per uno che non fa male a nessuno, ma quanti rimpianti. Il Palermo di Beppe Iachini esce indenne dal confronto con l'Empoli di Maurizio Sarri che arriva in Sicilia dall'alto dei quattro risultati utili consecutivi nelle prime giornate del girone di ritorno. Un punto che alla luce del gioco prodotto dalle due squadre non sta stretto, primo tempo di marca rosa nero, ripresa poi in mano degli avversari. Di Bala e Vasquez sempre protagonisti ma più in ombra rispetto alle ultime uscite e meno lucidi davanti la porta protetta dai pali e di traversa di Vasquez e da Sepe. La battaglia tattica fra le sorprese in panchina Iachini e Sarri alla fine finisce con un segno X che accontenta entrambi anche se il tecnico Ascolano può recriminare per gli infortuni in corso d'opera e la mancata vena realizzativa dei suoi uomini migliori. Adesso la classifica vede un Palermo a 34 punti, sempre in scia al Milan di Inzaghi, ma che perde terreno dalla zona Europa League. Che non fosse la giornata dei cecchini rosa si era capito nei primi dieci minuti di questa partita contro l'Empoli perché nello 0-0 contro i Toscani spiccano la traversa di Vasquez e soprattutto la giornata nodi di Bala sottoporta. I due gemelli del Palermo hanno abituato troppo bene il pubblico del Barbera e forse anche per questo nessuno poteva pensare di rivedere certi errori. La traversa di Vasquez treme ancora, ma di certo il più sfortunato è stato di Bala nei primi e nei minuti finali della gara. E quella di ieri è stata l'ennesima dimostrazione che senza i gol dei due argentini, là davanti, difficilmente il Palermo riesce a risolvere la partita con altri interpreti. In una giornata così, dunque, per andare bene anche il pareggio contro l'Empoli che anche al Barbera ha dimostrato tutta la sua bontà del campionato che sta disputando e della sua classifica. A gennaio il tasso di disoccupazione si attesta al 12,6%. Lo comunica l'Istat segnalando che dopo il calo a dicembre si registra una nuova flessione dello 0,1% su base mensile. Peggiore invece il dato su base annua con un incremento dello 0,2% al top dal 1977, il dato di senza lavoro nel 2014 al 12,7%. In leggera flessione a gennaio anche la disoccupazione giovanile pari al 41,2%. A un mese della sua elezione, primo viaggio all'estero per il Presidente della Repubblica Mattarella. Oggi sarà a Berlino dove incontrerà il Presidente Gauk, poi nel pomeriggio vedrà la cancelliera Angela Merkel. In serata è il trasferimento a Bruxelles dove domani avrà una serie di incontri con le istituzioni europee. Sarà una rivoluzione democratica per un profondo cambiamento. L'ex sindaco di Salerno De Luca vince la primaria del centrosinistra in Campania per la scelta del candidato governatore. Nelle Marche la spunta invece l'ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli che incassa oltre il 52% dei consensi. Nuovo capitolo dell'indagine della Procura di Roma sui fatti di corruzione e concussione che hanno interessato la capitale. Questa mattina arrestate altre quattro persone e tra loro ci sarebbe anche un dipendente della Polizia Municipale. Appello dell'ISIS con un testo in arabo pubblicato sul web ad uccidere i dipendenti di Twitter e il fondatore del social network Jack Dorsey. La guerra virtuale contro di noi si legge causerà una guerra reale contro di voi. Aspettando Roma-Juventus di stasera in Serie A è Bagar per il terzo posto. Volano Lazio e Fiorentina, frena il Napoli, risale la Sampdoria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.